Comprendere la tecnologia interiore delle emozioni 1. Parte prima. Nella tradizione degli antichi popoli indigeni ogni volta, che il respiro di un essere umano entra in una forma terrestre si ripete il più sacro fra tutti i riti, il sacro matrimonio fra spirito e materia. Il valore del corpo di informazioni contenute nel presente studio camminare fra i mondi è anche uno dei fattori, che mi hanno permesso di collegarne i dati, è costituito dall'analisi molto sintetica di alcune antiche tradizioni, che ci sono state tramandate ed anche dalla prospettiva, che riconosce l'unità di tutta la vita. Credo che noi esseri umani ci muoviamo nello spirito e siamo incapaci di percorrere un sentiero, che non sia spirituale. Perciò, a prescindere dalle nostre scelte di vita noi percorriamo comunque il sentiero dello spirito e quando riconosciamo l'unità della vita, che ci circonda, noi incarniamo quello spirito. Esiste una serie di petroglifi che, si è scoperto, segnalano il solstizio, e che funzionano nel seguente modo quando i raggi del sole colpiscono la roccia durante il solstizio si evidenzia una figura, che è stata scolpita per creare l'immagine di un pesce dalla cui bocca parte una linea retta sulla sinistra. Col progredire del solstizio il pesce si muove lentamente lungo la linea retta. C'è sempre stata anche un'intersezione con un'altra linea deviata rispetto a quella retta di cui nessuno conosceva il significa. L'anno scorso, per una ragione inspiegabile, mentre il pesce si spostava lungo la linea del solstizio ha imboccato la linea deviata, che non era mai stata percorsa prima, indicando così che qualcosa sta cambiando nell'orientamento. Siamo qui fra le alte montagne del Nuovo Messico settentrionale per parlare della tradizione degli Esseni. Molte persone mi hanno chiesto perché fa riferimento, in questa altra parte del mondo, agli Esseni, che si collocano nell'area del Mar Morto? Mano a mano, che vengono alla luce nuovi fatti sugli Esseni, anche molto scioccanti per alcuni ricercatori, si scoprono sempre più dati che abballoranno l'ipotesi, che già 2500 anni fa gli Esseni, oltre che in Medio Oriente, fossero anche qui, in America del Nord, nello Yucatan, nel Sud America, Peru, Bolivia e abbiano lasciato in ognuno di questi luoghi i segni della loro saggezza. Basata su quella che oggi va sotto il nome di scienza della compassione. Questo fine settimana avremo l'opportunità di risvegliare in noi il ricordo di quella che considero come la più sofisticata tecnologia, che sia mai stata concessa a questo mondo, una tecnologia, che vive dentro ciascuno di noi. Quasi tutti i testi dell'antica tradizione indicano la nostra epoca come unica, sia per il pianeta Terra, che per l'esperienza umana, che vi si svolge. Gli antichi, coloro che vissero prima di noi, ne erano talmente sicuri, che ci hanno lasciato interi volumi pieni di informazioni, scritti nel linguaggio del loro tempo, per comunicarci che cosa avrebbe significato, per il nostro mondo, l'epoca odierna. Ci hanno tramandato, che ai nostri giorni sarebbe nata una generazione di persone dotate di uno speciale potere, insito nel loro essere, che si sarebbe risvegliato in virtù della loro esperienza di vita dei loro rapporti umani. Con il risveglio quegli esseri non sarebbero mai più stati gli stessi. Con il risveglio neanche le loro parole e i loro corpi sarebbero stati più gli stessi. Gli antichi erano così certi del momento in cui questo sarebbe avvenuto e del ruolo, che gli esseri umani avrebbero avuto nel cambiamento, che diedero persino un nome a coloro che sarebbero vissuti in quest'epoca. Ritengo che la nostra generazione sia proprio quella che è stata prescelta per collegare, tutto ciò che è stato fino ad oggi con tutto ciò che deve ancora venire. Abbiamo scelto di collegare gli antichi paradigmi della luce e dell'oscurità con un nuovo paradigma, che non ha ancora un nome. Ciò che stiamo per affrontare insieme durante questo fine settimana, trascende la scienza, trascende la religione e trascende l'antico misticismo. Si tratta di una nuova saggezza, che non ha ancora un nome. Nel ripercorrere il sentiero, che ci svela l'unità delle antiche tradizioni, che ci sono pervenute, affronteremo insieme un percorso, che ci permetterà di risvegliare in noi questo momento. Secondo gli antichi, gli esseri umani avrebbero avuto l'opportunità di percorrere due sentieri. Il primo è quello della tecnologia esterna, che conosciamo molto bene, per mezzo della quale costruiamo macchine e strumenti esterni al nostro corpo fisico, forse senza renderci conto, che ogni volta, che ciò avviene non facciamo altro che costruire uno specchio di una qualche funzione del nostro corpo fisico. La prima volta, che ho espresso questo concetto davanti a un gruppo di persone mi è stato chiesto cosa intende dire? Non siamo dei tostapane o dei videoregistratori? Allora ho risposto no, non lo siamo, le componenti stesse che permettono ad un tostapane o ad un videoregistratore di essere ciò che sono, noi le incarniamo in ogni cellula del nostro corpo. Ogni nostra cellula ha un potenziale elettrico pari a 1,17 volte e ne abbiamo molte nel nostro corpo, come attiviamo quel potenziale? Gli antichi sostenevano che lo attiviamo e lo regoliamo attraverso le emozioni. Erano così sicuri, che la nostra generazione si sarebbe ricordata di questa tecnologia interiore, che scrissero per voi interi volumi sull'argomento, vi diedero persino un nome, vi chiamarono coloro che camminano tra i mondi. Voi siete quelli che camminano tra i mondi. A chi appartiene la tecnologia, che ci viene richiesto di incarnare? Io ritengo che abbiamo raggiunto un punto cruciale nell'evoluzione della consapevolezza umana. Abbiamo costruito macchine al di fuori del nostro corpo fisico per ricordarci che siamo qui. Abbiamo costruito delle macchine che dimostrano abilità e resistenza, che trasmettono e ricevono informazioni, proprio come fa ogni cellula del vostro corpo. Dalla prospettiva degli antichi, noi iniziamo a percorrere il secondo sentiero, nel momento in cui noi diventiamo quella tecnologia, costruiamo macchine per purificare l'aria e per guarire la Terra, ma dentro noi siamo quelle macchine. Ci viene ricordato che in quest'epoca storica la Terra subirà dei cambiamenti enormi, senza precedenti, e che i nostri corpi li rispecchieranno. Quanti di voi sentono di essere in una fase di grandi cambiamenti in questo momento della loro vita? Per me è così ogni giorno. Ci sono ben poche cose capaci di sorprendermi, sebbene io viva in uno stato costante di timore e riverenziale mentre questo processo si realizza. Quanti di voi sentono che il tempo sta scorrendo più velocemente? Avete notato che la velocità delle vostre funzioni corporee sta aumentando? Noi esseri umani siamo cambiati. I ricercatori la chiamano la mutazione genetica spontanea. Un processo il cui inizio risale a circa 5 anni fa ed ora il DNA in alcuni individui non ha più l'aspetto che aveva prima. Quegli individui hanno sviluppato un'immunità fortemente accresciuta verso quelle che erano considerate malattie potenzialmente letali come leve il cancro. Le cellule di quelle persone si moltiplicano con una velocità 100 volte maggiore di quanto non sia mai stato rilevato in precedenza. I loro corpi, che pure invecchiano nel flusso del tempo lineare, non si deteriorano. Perché? Cosa hanno fatto di diverso quelle persone? I ricercatori chiedono loro che integratori avete preso? Vitamine o un allucinogeno dell'Ucraina, che fate fermentare in frigorifero? E loro rispondono abbiamo cambiato il nostro sistema di credenze. Credenze, pensieri, sentimenti ed emozioni. Vedete, è molto chiaro, che gli antichi ci hanno lasciato proprio queste componenti di una tecnologia, che ritengo sia accessibile. Si tratta di uno stato di consapevolezza, che oggi va sotto il nome di compassione. Quando riflettiamo sulle sfide posteci dalla vita o sulle cose, che ci hanno ferito quando guardiamo il telegiornale e osserviamo ciò che sta accadendo nei paesi del terzo mondo o nel cortile di casa nostra, potremmo chiederci è possibile, che le cose, che ci hanno fatto soffrire così profondamente in passato siano un meccanismo a cui noi abbiamo acconsentito? E' possibile, che le grandi sfide posteci dai rapporti umani, dalla salute e dalla sopravvivenza non siano altro che uno strumento di cui ci serviamo per ridefinire noi stessi teologicamente il momento presente? Mentre apprendiamo e ricordiamo nuove modalità di risposta a quelle sfide, stiamo forse ridefinendo i nostri parametri biologici? Stiamo diventando una nuova specie? Io credo di sì. Lo dico apertamente. Alcuni di voi lo sanno già. Io sono un ottimista e credo senza ombra di dubbio, che qualunque sia il processo di cambiamento, che si sta realizzando oggi su quello che chiamiamo il nostro mondo e nei suoi sistemi sociale, politico, economico, militare, né teologico e teologico, esso costituisce un cambiamento sano e naturale. Credo anche che stiamo passando attraverso un ciclo simile a quelli già vissuti in precedenza anche se forse non ce ne rendiamo conto perché la durata dei cicli è molto lunga. Credo che le sfide che la vita ci pone sulla Terra siano proprio il tramite con cui ci viene offerta la possibilità di ridefinire, chi siamo e diventare qualcosa di più grande di ciò che la vita sembra offrirci e, nel fare questo, di spiccare un velocissimo balzo in avanti. Quindi da questa prospettiva ci chiediamo è possibile, che le sfide umane più pesanti, quelle posteci dalla salute, dalla sopravvivenza, dai rapporti umani costituiscano dei meccanismi attraverso cui ridefiniamo i nostri parametri biologici, che avevamo già concordato in tempi remoti? Ritengo che proprio questa sia la sfida e nel contempo l'opportunità, che ci viene offerta oggi. Abbiamo riacquistato il ricordo del ruolo svolto dai nostri corpi durante le nostre vite terrestri. Credo che oggi restino testimonianze di quest'antica memoria in vari tempi in tutto il mondo, ed anche qui a casa nostra, a Cacle Kenyon nel Nuovo Messico, in questo speciale complesso architettonico costruito intorno ad una serie di strutture circolari chiamate Kivas, nelle quali gli antichi dicevano di poter giungere a conoscere se stessi completamente e di riuscire a parlare con altri mundi. In passato la prospettiva delle moderna tecnologia occidentale ha spesso definito primitive queste società. Noi ci chiediamo è possibile invece che esse fossero talmente evolute, in termini di tecnologia interiore, da aver ben poco bisogno di una complessa tecnologia esterna? Forse è così. Nel visitare luoghi come questo ed altri luoghi in Sud America e nello Yucatan, notiamo che quasi da per tutto gli antichi calendari, i testi di sistemi di tenuta del tempo della tradizione orale, definiscono l'attuale momento storico come molto speciale. Dicono che succederà qualcosa sulla Terra, e che questo qualcosa verrà riflesso dai nostri corpi e, mano a mano, che arriveremo a comprendere di cosa si tratta, non saremo mai più gli stessi. Il nostro mutamento rappresenta noi mentre recuperiamo il ricordo del più alto potenziale nascosto nell'essere umano. Perciò credo che, recuperando l'eredità di queste antiche tradizioni, cioè di civiltà, che sono arrivate a conoscere se stesse completamente, ci venga offerta un'occasione formidabile per ridefinire il significato della nostra vita, dei rapporti umani e di ogni fenomeno, che accade sulla Terra. Da questa prospettiva infatti, ogni cosa diventa una sfida, che ci offre l'opportunità di rivedere le nostre modalità di risposta al mondo in cui viviamo. Nel ripercorrere le antiche tradizioni di coloro che sono venuti sulla Terra prima di noi, abbiamo la possibilità di verificare la continuità fra le loro vite, migliaia di anni fa, e la nostra vita oggi. Anche a prescindere da quelle antiche tradizioni, assistiamo ad eventi, che accadono al di là del nostro mondo attuale, poiché percorrendo il sentiero della tecnologia esterna, abbiamo costruito delle macchine, degli strumenti esterni al corpo umano, abbiamo viaggiato nelle profondità atomiche del mondo dei quanti, abbiamo assistito al momento del concepimento all'interno di un utero umano, abbiamo creato macchine che funzionano da surrogati delle nostre percezioni o da estensione dei nostri sensi, e che ci hanno fatto entrare in mondi da cui credevamo di essere separati mentre in realtà non c'è separazione perché tutte le informazioni, i dati, le cifre, indicano l'esistenza di una forza, che non può essere né creata, né distrutta, e che sentiamo l'esigenza di misurare. Tutti i dati rimandano a noi, esseri umani, ed indicano che dentro di noi esiste una forza, che gli antichi chiamavano spirito. Oggi il nostro compito è comprendere come quella forza sia in grado di far muovere gli esseri umani e la storia. I parametri, che stiamo vivendo in questo momento storico sono stati simulati migliaia di anni fa. Gli antichi, che si calarono nelle kibas analizzarono il significato di quelle esperienze sui loro corpi sentimenti, emozioni, percezioni e relazioni spazi o temporali, e ci trasmisero quella conoscenza nell'unico modo in cui potevano farlo, attraverso il linguaggio del loro tempo. Ritengo che ciò rappresenti una meravigliosa continuità per la nostra esperienza attuale, perché gli antichi avevano conoscenza di questo tempo storico. Quella che vedete è la ricostruzione di un kibas situato un po' più a nord a Fermington, nel Nuovo Messico. Ha un'atmosfera quasi egiziana. Non è bellissimo? Oggi, se chiedete ad un indiano americano a che cosa servivano queste kibas, vi risponderà a che venivano usate per comunicare con altri mondi e per parlare con i loro antenati. Fino a pochi anni fa noi rispondevamo a, certo, secondo la prospettiva primitivista. Invece ora sappiamo che in realtà in quelle stanze venivano simulati un basso magnetismo e delle alte frequenze, capaci di indurre degli stati alterati di coscienza negli individui, che si sottoponevano a tali esperienze. Gli indigeni americani, quindi ci avevano detto esattamente a cosa servivano le kibas, e che comunque è solo uno dei possibili esempi. Trovo particolarmente affascinante che quasi tutti i calendari antichi, questo è il calendario zodiacale del Tempio di T, in Egitto cioè in metodi di registrazione del tempo sia orali, che scritti, si fermino ai nostri giorni. Non è interessante? Questo calendario iniziò circa 39.000 anni fa. Il calendario dei Maya, secondo alcune ricerche, iniziò più di 18.000 anni fa. Quei popoli possedevano la tecnologia necessaria per costruire diagrammi temporali, da allora ai nostri giorni, e tutti i calendari convergono sull'epoca storica attuale, sulla nostra generazione, sulla nostra vita di oggi e non esistono nuovi calendari. Per quale motivo? I calendari dei Maya sono molto chiari e affermano che il tempo come lo conosciamo in effetti è terminato a luglio del 1992 e che da allora fino a dicembre del 2012 questa nostra generazione sta vivendo un tempo chiamato non tempo, durante il quale avrà luogo un riallineamento dei sistemi temporali. ci hanno anche detto non cercate di costruire nuovi calendari. Non avrebbero senso per voi, perché non percepite più il tempo nello stesso modo. La cultura Maya per me è particolarmente ricca di fascino perché 500 anni fa i Maya per così dire scomparvero, lasciando detto che la Terra stava entrando in un ciclo di oscurità, un periodo, che sarebbe durato 500 anni. Quindi, essi dissero noi non restiamo. Lasciarono qui alcune persone, una sorta di equipaggio minimo, e dalla loro prospettiva noi stiamo emergendo proprio ora dal ciclo di oscurità e ci stiamo risvegliando nuovamente alla luce. Il calendario egizio, nel caso in cui non foste riusciti a vederlo bene poco fa, presentava lo stemma zodiacale che vedete. Oltre ai calendari, molte antiche tradizioni parlano del momento presente. Questo frammento, trovato in un tempio del deserto americano sud-occidentale è tratto da una storia delle esperienze umane abbastanza estesa. Non vi pare interessante che in qualunque luogo del mondo vi siano strutture come quelle del sud-ovest americano e la gente le chiami templi, mentre qui noi le chiamiamo vecchie rovine. Sono templi proprio come quelli di altri luoghi del mondo. Questo è il muro di un tempio situato nel deserto americano del sud-ovest, che indica questo nostro tempo storico dalla loro prospettiva. Quella che vedete è la spirale della vita. Si diceva che in quest'epoca avremmo trovato una nuova vita in noi stessi, e che anche la vita terrestre sarebbe stata abbondante e che il cibo sarebbe stato abbondante e che gli esseri umani avrebbero vissuto nell'abbondanza. È interessante vedere le cose da queste prospettive, magari non del tutto scientifiche, ed è anche interessante notare come tradizioni differenti tra loro convergano tutte e sui nostri giorni. Se guardiamo la prospettiva degli opi vediamo che nel 1979 gli anziani opi si sono riuniti nell'Arizona settentrionale e per la prima volta dopo centinaia, migliaia di anni hanno rivelato pubblicamente le sacre profezie del loro popolo. Hanno detto crediamo che questa sia l'epoca di cui parlavano le antiche profezie e questo è il momento di condividere le nostre tradizioni con tutti gli esseri umani. Hanno affermato che si sarebbe verificata una serie di segni fra cui l'apparizione della luna crescente sia sulla terra, che in cielo. La gente si chiedeva com'è possibile. Ebbene qualche anno dopo, nel 1993, sono apparsi per la prima volta dei cerchi a forma di luna crescente sui campi di grano. Quella che vedete è una serie di lune crescenti, con uno spostamento laterale di 90 gradi. Quando gli anziani opi videro questi segni i loro occhi si riempirono di lacrime. Furono convinti che si trattava della prima profezia. La seconda parte della profezia opi afferma che ci sarà una nuova stella nel cielo, una stella blu, dotata di una vita molto diversa da quella del nostro attuale Sole. Fino al 1994 molti pensavano che forse si sarebbe trattato di un momento di allineamento planetario, che avrebbe permesso la visione di una stella blu, ma nel 1994, 21 frammenti di qualcosa di non identificato che stiamo ancora studiando non sappiamo se fosse una cometa o un asteroide o che altro. Colpirono degli strati potenzialmente infiammabili dell'atmosfera di Giove, che non hanno mai preso fuoco. I ricercatori di qui, che seguirono l'evento su internet, ne rimasero affascinati. Una delle spiegazioni, che hanno formulato è che quegli strati avrebbero potuto accendersi a causa del calore dei frammenti, che colpivano l'atmosfera. Invece accade qualcosa di sorprendente non ci furono esplosioni, non successe nulla. Gli strati infiammabili erano contenuti fra strati non infiammabili e stiamo ancora assistendo mi pare di capire al potenziale evolversi di quell'impatto perché sembra che si stia verificando un effetto di combustione senza fiamma. Il pianeta Giove se lo osservate attraverso le lunghezze d'onda giuste sullo spettro ultravioletto ora sta emettendo una luce, che non aveva mai emesso prima. Dalla prospettiva degli opi noi stiamo vivendo un tempo di purificazione. Gli opi dicono che, attraverso i rapporti umani, che viviamo, noi riusciremo a capire il senso delle nostre vite, e che tutti quei segni potrebbero aiutarci a dare un senso anche all'attuale momento storico. Tutti questi fenomeni, seppure interessanti, sono visti dagli scienziati come fenomeni discreti, non correlati e la ragione per cui io ne sono così affascinato è che stanno tutti accadendo contemporaneamente in questo tempo storico. Perché? Perché non quindici anni fa? Ritengo che, per capire veramente che senso abbia per noi il momento attuale in tutta la sua rilevanza, sia necessario osservare tutti i fenomeni, che accadono proprio qui sulla Terra, usandoli per derivarne le migliori informazioni e forse anche le migliori intuizioni. Quello che vedete è uno spaccato della Terra, che mostra in modo schematico i suoi vari strati e le linee di forza magnetiche. Lo schema mostra, che duemila anni fa, i campi magnetici della Terra, indicati dalla linea rossa, raggiunsero un punto massimo a partire dal quale hanno cominciato a decrescere molto velocemente. Attualmente stiamo al punto più basso di magnetismo terrestre, mai raggiunto negli ultimi duemila anni. Un ente del nord-ovest del Pacifico, la Geomonitor, sta misurando questo fenomeno. Recentemente è stato chiesto a loro di quantificare l'entità del declino magnetico e la loro risposta ha provocato molto scalpore perché, su una scala da 1 a 10, in cui 10 è il punto più alto di magnetismo degli ultimi duemila anni, il magnetismo terrestre di oggi si attesta ad un livello compreso tra 1 e 1.5. Quel magnetismo ha un impatto molto profondo sulle emozioni e sulla fisiologia umana. La Terra ha una sua pulsazione. Gli antichi lo sapevano e lo chiamavano il battito del cuore del nostro pianeta. Fino ad oggi la nostra società tecnologica non sapeva proprio come interpretare tale concetto, ora noi sappiamo, che per ogni secondo della nostra vita la Terra pulsa un dato numero di volte. Storicamente si è sempre trattato di circa 7.8 cicli o 7.8 Hz o 7.8 battiti al secondo. Una cifra, che fu scoperta e misurata nel 1898 non lontano da qui a Colorado Springs. Noi pensavamo che quella pulsazione fosse costante, perché è rimasta uguale fino a metà degli anni Ottanta, poi ha cominciato a cambiare. A questo punto è iniziata una controversia perché vari ricercatori, usando strumenti diversi, stanno misurando tipi diversi di cambiamenti. Tutti sono d'accordo sul fatto che si sta verificando un cambiamento, ma non sul senso da dargli. La nostra odierna tecnologia ci indica almeno due parametri, che stanno modificandosi molto velocemente e il magnetismo sta scendendo e le sequenze stanno salendo. Ritengo che stiamo vivendo in un'epoca in cui ci stiamo muovendo verso il punto di convergenza dei due parametri, che si avvicineranno molto e forse si incontreranno. Il giorno in cui ciò accadrà sarà quello che le antiche tradizioni, gli antichi testi hanno descritto quello in cui vedremo l'inizio di ciò che è stato definito il cambiamento epocale. Molti lo chiamano anche la nuova era o l'alba di una nuova era. Gli opi lo chiamano l'inizio del sesto mondo e alcuni ricercatori l'hanno battezzato mutamento dimensionale oppure traduzione dimensionale o inversione magnetica. Ci sono molti modi di concepire questo nostro tempo storico. Quasi tutti gli antichi testi, calendari e codici si riferiscono all'epoca in cui viviamo come ad un momento unico della storia umana e terrestre. In tempi recenti i ricercatori hanno ammesso che i cambiamenti narrati dai testi antichi stanno effettivamente verificandosi ora. Le cadute di magnetismo e gli aumenti di frequenza planetaria di base, che stiamo osservando, riflettono modifiche mai accadute prima, nella storia dell'umanità e della Terra. I testi, che espongono tali modificazioni del nostro mondo e delle nostre vite, fanno anche riferimento ad un'antica promessa che ci permetterà di operare la transizione con grazia attraverso un codice di condotta che ci permetterà di comunicare gli uni con gli altri nella vita quotidiana. Gli antichi testi descrivono con molta chiarezza il rapporto tra tecnologia interna ed esterna, che noi incarniamo in questo mondo. Secondo tale prospettiva la tecnologia esterna è rappresentata da tutto ciò che abbiamo costruito le macchine e gli strumenti, che abbiamo creato le di fuori di noi stessi, e che rappresentano noi nell'atto di ricordare chi siamo, imitando le nostre funzioni attraverso le macchine stiamo continuando a percorrere il sentiero della tecnologia esterna, finché non giungeremo al punto in cui recuperiamo la memoria. Raggiunto quel punto imboccheremo il sentiero della tecnologia interiore, in cui noi diventiamo quello. Quello è l'inizio del sentiero della compassione. La Terra sta passando attraverso un processo apparentemente senza precedenti dal punto di vista geologico e sicuramente senza precedenti dal punto di vista della storia umana. Tutte le antiche tradizioni ci ricordano che era tutto previsto. Per me questo è fantastico, perché è lì che risiede la continuità. Stiamo vivendo un'esperienza, che la tradizione orale e scritta ha conosciuto, profetizzato, predetto e atteso per migliaia di anni. Abbiamo davanti le esatte parole, che ci sono state tramandate ancora più di recente, durante gli ultimi 3000 anni. Questo è un frammento del manoscritto del Mar Morto, il manoscritto del profeta Enoch, che fu molto preciso nel descrivere i cambiamenti a cui avremmo assistito nella nostra epoca. I raccolti non sarebbero cresciuti durante la loro stagione, i modelli meteorologici e solari si sarebbero modificati ed anche gli stessi esseri umani sarebbero cambiati molto velocemente. Quasi tutte quelle antiche tradizioni affermano che, in qualche modo, per mezzo di un processo mistico, che non fu ben compreso migliaia di anni fa, i nostri corpi sarebbero cambiati ed ora sappiamo, perché i nostri ricercatori l'hanno convalidato il DNA, che abbiamo sempre creduto essere un codice fisso, in realtà non lo è. Noi incarniamo un codice variabile di DNA. È come se fossimo venuti al mondo con dei parametri molto specifici, predeterminati dalla fabbrica, nelle opzioni di manifattura per così dire e mentre affrontiamo ciò che la vita ci offre, abbiamo la possibilità di accedere a nuovi modelli, di attivare nuovi codici. Questo è il mistero. Questa che vedete è la matrice del codice genetico umano, che è stata scoperta a metà degli anni 50 dai ricercatori Watson e Craig. Il codice illustra 64 possibili combinazioni carbonio, ossigeno, idrogeno e azoto, che abbiamo a disposizione nel nostro corpo sotto forma di modelli di DNA. Credevamo che fosse un codice fisso e solo in tempi relativamente recenti, lavorando su malattie potenzialmente letali, i ricercatori hanno rivisto l'argomento. Il mistero era questo perché negli umani sembra essere attivato solo un terzo dei 64 codici possibili. Perché circa i due terzi di quei codici sono disattivati? Lo sono sempre stati? Per esempio, riflettete su questo cosa hanno in comune gli esseri umani con i porcellini d'India, alcuni pipistrelli ed alcuni tipi di scimmie? Siamo i soli mammiferi, che non sono in grado di produrre la vitamina C all'interno del loro organismo, mentre altri mammiferi possono farlo. È sempre stato così? Noi umani abbiamo tutti gli strumenti, che servono per farlo, perché non sono attivati? Possiamo attivarli noi stessi? Oggi i ricercatori stanno scoprendo che, in effetti, ciò è possibile. Gli esseri umani stanno ridefinendo l'aspetto di questo codice attraverso il tipo di risposta, che forniscono alle loro esperienze di vita. Stanno cioè producendo dei sistemi immunitari fortemente migliorati e una rigenerazione cellulare. Sono capaci di fare questo attraverso le loro risposte emotive. Quella che vedete è una bella illustrazione di un artista bisonario, Alex Gray, che mostra una coppia nell'atto di abbracciarsi. Questa è l'emozione prodotta da una storia d'amore e chiaramente l'idilio non è la sola fonte di emozioni. Voglio essere molto chiaro su questo l'idilio scatena forti emozioni e anche ogni altro rapporto umano interpersonale costituisce un'opportunità per provare emozioni, si tratti di una relazione di lavoro, di un'amicizia, di rapporti fra fratelli o di rapporti con genitori. Il mio obiettivo nel fornirvi queste informazioni è di portar fuori dal dominio della religione la potente tecnologia rappresentata dalla compassione. Vorrei poter parlare di quest'uomo indica un'immagine del Cristo e di ciò che ci ha offerto andando al di là del contesto religioso. Intorno a lui sono state create delle religioni e chiaramente qui non ci stiamo riferendo ad un procedimento religioso, bensì ad una potente forma di tecnologia interiore, quindi lo ripeto ritengo che quello che stiamo facendo qui insieme trascende la religione, la scienza e il misticismo. Come lo fa quest'immagine dell'arcangelo Michele in preghiera per il Medio Oriente, mentre offre compassione la risposta ai fatti verificatesi in quel luogo? Un improvviso colpo di vento mi colpì, facendomi bruciare gli occhi. Guardai il punto in questione e vidi che tutto era normale. Non riesco a vedere niente dissi. L'hai appena sentito rispose lui cosa? Il vento? Non solo il vento, disse lui, ti può sembrare il vento, perché il vento è la sola cosa che conosci. Riflettete che cosa sta succedendo? Questa citazione è tratta dalle lezioni di Don Yewan, di Carlos Castaneda e Sarispecchia un'antica credenza degli esseni, secondo cui noi siamo venuti in un mondo dove sono al lavoro delle forze che loro chiamano angeli. Se non vi piace la parola angeli potete dire forze elettromagnetiche, il che è lo stesso. Gli angeli del vento, gli angeli della luce, gli angeli dell'acqua e gli angeli del sé della Terra. Essi ci hanno dato il benvenuto quando siamo giunti sulla Terra. Potete chiamarli forze elettromagnetiche del vento, della luce, dell'acqua e della Terra. Sono esseri viventi coscienti, esseri consapevoli. Pensate a cosa ciò significa. Ogni volta, che uscite fuori da questa stanza per fare una pausa e il vento vi passa fra i capelli e vi accarezza il volto, l'esperienza può essere concepita come un essere vivente che ha appena condiviso qualcosa con voi. Se non lo sapete lo chiamate solo vento. Quante volte abbiamo assistito a degli eventi col condizionamento di sapere solo alcune cose e non altre, per cui ci è sfuggito il significato di ciò che ci veniva mostrato. Sta succedendo anche adesso? Gli antichi dicevano che ai nostri giorni saremmo stati testimoni di eventi senza precedenti in nessun'altra epoca della storia umana e terrestre ed è certo, che oggi i nostri scienziati stanno scoprendo cose, che non erano mai state viste prima. Gli antichi esseni ci ricordano con molta chiarezza la natura del nostro rapporto con la Terra. Dalla loro prospettiva il corpo umano è un'entità vidente e consapevole, formato dall'unione, dal santo e sacro matrimonio tra elementi terrestri e lo spirito, che è venuto ad abitarvi. Negli antichi testi e seni si fa riferimento agli elementi come ha degli angeli, che oggi chiameremmo forze elettromagnetiche. Questi testi parlano molto chiaramente degli angeli dell'aria, che portano il respiro della vita in ogni cellula del nostro corpo, degli angeli dell'acqua, che fanno pulsare e scorrere la vita nelle nostre bene, degli angeli del Sole, che portano i codici vitali nei nostri corpi e degli angeli della Terra. La Terra. Pensate come vi sentite quando toccate una manciata di fango o del terriccio, i bambini sono così a loro agio nel farlo. Noi siamo questo. Questo è ciò di cui siamo fatti. Mano a mano, che comprendiamo il nostro rapporto con la Terra e con gli elementi, noi incarniamo pienamente le tradizioni indigene e l'antico concetto di ciò che significa avere in sé la compassione, che fornisce le basi per instaurare quel rapporto nell'arco della nostra vita. La Terra sta cambiando. Gli antichi non si riferivano a qualcosa che sta per accadere. Siamo già dentro il cambiamento ora. Questa è un'illustrazione del corpo umano sovrapposto alla tavola periodica degli elementi. Gli esseni credevano fermamente che il corpo umano costituisse la santa unione tra il Padre Celeste e lo Spirito con la Madre Terra di cui sono fatti i nostri corpi. Il corpo umano contiene la stessa materia di cui è composta la Terra. Non è incredibile? Ci avete mai pensato? Quando noi accompagniamo le persone a fare escursioni nella natura, ad esempio nelle montagne del Peru, spesso affondiamo la mano nelle ride sabbiose del fiume Urubamba per prendere una manciata di sabbia calda e farla scorrere fra le dita e questo ci fa un effetto delizioso? Perché? Perché quello siete voi. Noi siamo fatti di Terra. Gli antichi peruviani ne erano così certi, che diedero al corpo umano il nome di Terra animata. Declino del magnetismo aumento della frequenza. Poiché anche noi siamo fatti di Terra dobbiamo far posto a questi cambiamenti nella nostra vita. Gli anziani lo sapevano e 700 anni fa è accaduto qualcosa. Il nostro modo di vedere la vita, di vederci l'un l'altro, di concepire il nostro rapporto col mondo ha cominciato a cambiare. 700 anni fa è stato fatto cadere uno seme nella nostra memoria con il seguente messaggio mano a mano, che ci avviciniamo ad una fase di transizione, come quella che stiamo attraversando proprio ora, la Terra presente nei nostri corpi deve separarsi da quell'altra forza misteriosa lo spirito, che c'è nei nostri corpi e quello è il modo per passare attraverso la transizione. Fino a 700 anni fa ne discuteremo tra poco si vedevano le cose molto diversamente. Nel XII secolo è stata tradotta tutta una serie di testi e quelle traduzioni, di cui alcune erano errate, riflettevano la credenza che, quando il corpo umano si avvicina ai punti di convergenza della storia terrestre, il solo modo, che gli permetta di passare attraverso la fase di transizione si realizza attraverso la separazione dello spirito e della materia presenti in esso. Per un po' di tempo abbiamo cominciato a crederci. Al giorno d'occi ci siamo liberati da una convinzione, che ha ormai fatto il suo tempo e la stiamo trascendendo. Pensiamo alle scuole misteriche. Gli antichi avevano un modo molto speciale di concepire il loro rapporto col mondo. Vorrei parlarvene adesso e poi ricollegarlo al fenomeno del XII secolo, cui ho accennato. Questa è un'immagine tratta dal tempio di Uon in Egitto, che mostra la dea Nut, la quale manteneva separato il giorno dalla notte. Ogni mattina Nut partoriva il sole, che poi passava attraverso il mondo della luce, fino a venire nuovamente indeottito dalla notte, per poi ricominciare il suo ciclo. Le scuole misteriche quindi concepivano la luce e l'oscurità come porzioni uguali e valide della stessa esperienza di vita. Anche gli antichi tibetani possedevano un concetto molto simile. Questa illustrazione è tratta dalla prima pagina di quello che prima si chiamava il Libro Tibetano dei Morti e a cui ora è stato dato il nuovo titolo di Libro Tibetano dei Morti e dei Viventi, perché i suoi principi si applicano anche alla vita oltre a ciò che viene dopo di essa. I tibetani concepivano la vita in maniera molto simile agli egizi e affermavano che sia la luce, sia l'oscurità ci offrono delle grandi opportunità esperienziali, e che ciascuno di questi piccoli cerchi concentrici, rappresenta un'esperienza vibratoria attraverso un punto che è un passare prima di raggiungere lo stato del Buddha, lo stato dell'equilibrio e dell'illuminazione. Pensiamo infine alla tradizione cristiana. Questa pagina è tratta da uno dei vecchi testi delle scuole misteriche cristiane e il Libro dei Corinzi, che così si riferisce al tempo del cambiamento epocale. Ecco io vi dico un mistero, nel giorno del cambio epocale, non tutti morremo, ma tutti saremmo trasformati in un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba. Il pezzo dice proprio così saremo cambiati in un batter d'occhio. Anche altri testi, come quello dei mormuni, sono particolarmente interessanti perché affermano in quei giorni tu non soffrirai la morte, tu sarai cambiato in un batter d'occhio da mortale a immortale. Il testo che, come sentite, usa quasi le stesse parole, continua così so che molti di voi hanno posto domande sugli eventi a venire e che credete che dovremo separarci dalle nostre carni e morire, tuttavia in quei giorni nei nostri corpi noi vedremo il nostro creatore. Il testo mormone dice proprio così nei nostri corpi. C'è qualcosa di molto potente in quelle frasi, tutti i testi affermano sia che cambieremo, sia che quel cambiamento accadrà nei nostri corpi. Chiaramente dalla loro prospettiva, che anche la mia io concepisco l'attuale tempo storico come una nascita, un tempo vitale, un momento di grandi opportunità. Se percepiamo il nostro mondo solo attraverso il cervello destro o sinistro, o soltanto attraverso la logica, allora percepiremo sempre una separazione. Se guardiamo la vita attraverso i due emisferi, vedremo sempre luce e oscurità, bene e male, giusto e sbagliato. Quello è un modello, che ha fatto il suo tempo. Qualcosa di più valido? Secondo i testi antichi, la logica è molto positiva, e deve essere temperata con la saggezza, una saggezza, che viene da cuore. In anni recenti i ricercatori hanno trovato un nuovo modo di concepire tutto questo. Se non vi piace la parola cuore, se è troppo nebulosa per voi, potete chiamarlo un oscillatore a cristallo liquido a sette livelli, che pulsa nel centro dei nostri corpi, perché questo è precisamente ciò che il corpo rappresenta. I testi affermano questo che temperando la logica con la saggezza del cuore, in qualche modo il nostro corpo cambierà. Il DNA si modificherà. Quando il DNA si modifica, i nostri corpi cambiano e, se questo accade durante la fase di transizione, non sarà necessario, che lo spirito abbandoni i nostri corpi. Durante la transizione potrà rimanere nella carne, lasciando intatta la santa unione. Se cambiamo il modo in cui pensiamo sentiamo e percepiamo le nostre emozioni, se temperiamo la logica con la saggezza, noi permettiamo allo spirito e alla materia di restare intatti e, mano a mano, che così procediamo attraverso le fasi di transizione, noi diventiamo qualcosa di molto diverso da ciò che siamo stati in passato. È un processo, che non ha nulla di religioso e lo preciso perché credo che almeno una volta nella nostra memoria cosciente ci sia stata offerta l'opportunità di osservare direttamente questa fase di transizione. Credo che quella sia stata la tecnologia, che ci fu offerta da quest'uomo indica il Cristo. Sono sorte ed è comprensibile intere religioni intorno a quel processo, che, dalla mia prospettiva, ci offre l'opportunità di incarnare il più alto potenziale umano. I cambiamenti, che avvengono sulla Terra sono collegati al nostro potenziale umano e molte persone sono estremamente preoccupate e persino impaurite talvolta, per come si sta modificando il nostro pianeta. Sorge in noi la domanda è possibile, che i cambiamenti terrestri non siano altro che dei catalizzatori, che ci permettono di diventare qualcosa di più grande di ciò che siamo? Noi umani stiamo cambiando nell'arco di una sola vita. Il tempo ci insegna che a volte è basta la nascita di una sola nuova vita affinché si verificassero degli stupefacenti salti di potenziale umano nella storia terrestre. Intere famiglie, comunità, società, incontrano un problema da risolvere nell'arco di una sola generazione e le generazioni successive rispecchiano poi i cambiamenti necessari ad adattarsi a quella sfida. Oggi ci sta accadendo questo. Stiamo creando questi cambiamenti e permettendone la manifestazione nell'arco di una sola vita. Non si tratta di morte, bensì di una nuova vita, che prende origine da una vita già in corso. Il termine biblico per questo è resurrezione. In termini molto concreti la Terra sta attraversando una resurrezione e i nostri corpi sono invitati a permettere la realizzazione di quella possibilità. Gli antichi ci hanno tramandato le chiadi necessarie per concedere quel permesso. Non si tratta tanto di ciò che facciamo, quanto di ciò che diventiamo. Credo che il paradigma valido per noi oggi sia proprio questo. Siamo stati condizionati a fare e molte volte le persone, che vengono ai seminari ci dicono va bene, dimmi quello che devo fare. Che meditazione devo fare, che tipo di integratori devo prendere per permettere a questa cosa di accadere? Questa è sempre una sfida per me. In una società in cui siamo stati condizionati a fare che linguaggio posso usare per dirvi che ormai abbiamo trasceso il fare? Credo veramente che abbiamo superato il fare, e che ora abbiamo l'opportunità di diventare. Dobbiamo diventare proprio le cose, che scegliamo di far entrare nella nostra vita. È chiarissimo, che i testi antichi ci hanno lasciato le chiavi per far questo, se abbiamo la saggezza necessaria per trovarle. Nel XX secolo, il dottor Yenny, dalla mia prospettiva, è stato il pioniere della nuova consapevolezza, che ha illuminato un potente rapporto, che tutti voi qui già conoscete perché vi è stato descritto. Vorrei sviluppare ulteriormente l'argomento in modo, che possiate non solo divenirne testimoni e conoscerlo, ma anche concepire che cosa può offrire. Si tratta del rapporto fra vibrazione e materia. Il dottor Yenny, in pratica, ha immesso delle vibrazioni in vari tipi di sostanze. Talvolta ha usato una sostanza in polvere come il licopodium, che è la spora della pianta di Artemisia bulgarise e possiede una forma perfettamente sferica, una bassa tensione di superficie ed un bellissimo disegno. Altre volte ha immesso le frequenze in un liquido, come nell'esempio, che stiamo per osservare. Questa 2 è una goccia d'acqua nella quale viene immessa una certa frequenza. Mentre ciò accade, si possono vedere delle forme geometriche formarsi all'interno della goccia. Il fatto significativo è che le forme geometriche sono meno complesse alle frequenze più basse, e che alzando le frequenze esse diventano sempre più complesse. Quindi stiamo assistendo ad una variazione originata dal passaggio da frequenze più basse a frequenze più alte. Lo voglio sottolineare perché questo è proprio ciò che sta succedendo alla Terra in questo momento. La pulsazione di base della Terra, che è di circa 7.8 cicli al secondo, ora sta cambiando. Lo ripeto si discute molto su cosa rappresenti questo cambiamento e ne siamo tutti testimoni proprio mentre ciò avviene. Man mano, che attraversiamo questo mutamento della pulsazione a livello planetario i modelli energetici sono obbligati a cambiare per potersi adeguare, proprio come i modelli energetici di questa goccia d'acqua stanno cambiando per rispondere ad una differente pulsazione. La frequenza iniziale produce dei semplici cerchi concentrici nell'acqua, a intervalli viene raggiunta una particolare soglia di risonanza, come sta accadendo ora e durante quell'attimo l'intera forma geometrica si trasforma in un'espressione più complessa di se stessa, semplicemente perché la frequenza viene modificata. Ora guardate cosa succede se aumentiamo nuovamente la frequenza e raggiungiamo un'altra soglia di risonanza questa intera forma geometrica si trasforma in un altro modello ancora più bello e complesso del precedente. Lo farà ancora ed ancora. Osservate la meravigliosa geometria di questo modello è un cubo perfetto, un tetraedro perfetto a forma di stella, nel tridimensionale abbiamo un ottaedro. Queste sono potentissime immagini di geometria sacra, che si mantengono stabili nella goccia d'acqua semplicemente grazie alla presenza di un modello vibratorio, che lo consente. Con l'aumentare della vibrazione i modelli possono diventare sempre più complessi. Riuscite a vedere la pulsazione nell'acqua? Mentre entriamo nell'ultima serie di frequenze, se osservate il perimetro esterno, vedrete che l'intero modello raggiunge il suo più alto livello di complessità e poi col calare delle frequenze ritorna a ciò che era inizialmente dei cerchi concentrici. Sembra quasi che sia vivo. Voi sapete che spesso ci è stato proposto il concetto secondo cui il pensiero è vibrazione. Avete mai preso in considerazione il fatto, che l'emozione sia vibrazione? Sentire è vibrazione noi siamo sempre nello stato del sentire abbiamo costantemente in noi delle emozioni. Anche se non sempre ne siamo coscienti, portiamo quei modelli vibratori dentro di noi. Mentre abbiamo un pensiero, un'emozione noi immettiamo un modello nel cristallo liquido rappresentato dal nostro corpo. In questo momento, che modello vibratorio ha il vostro corpo? Che emozione, che sentimento provate? Ne siete coscienti? Siete coscienti che, cambiando le vostre emozioni voi cambiate i modelli vibratori presenti nel vostro corpo? Esiste una tecnologia, che l'Occidente ha perso di vista 700 anni fa, e che riguarda il modo di regolare i modelli di energia all'interno del corpo umano. Emozione e sentimenti sono modelli che l'Occidente è ampiamente ignorato, essendosi concentrato di più sul pensiero. Siamo diventati una società molto mentale. Questo è un sentiero potente e la sua conseguenza è che dobbiamo ritrovare, dobbiamo ricordare l'equilibrio necessario a raggiungere con grazia il più alto potenziale offertoci dalla logica in questo mondo. Questa è la ragione per cui stiamo procedendo molto lentamente. La tecnologia entra in gioco quando vi chiedo sapete con quali sentimenti e in che modo si deve rispondere alla vita per riuscire a creare dei modelli molto specifici nel corpo umano? Ci ha mai detto nessuno come farlo? Esiste una tecnologia per questo e potente e da potere a chi la usa ed ora stiamo per condividerla insieme. Gli antichi hanno affermato che la Terra sta attraversando questo mutamento. Si sono immersi nelle stanze, nelle chi va simulando allora quello che noi stiamo vivendo oggi, e ci hanno lasciato degli scritti dove ci dicono questo è l'effetto che fa. Questo è ciò che accade alle emozioni, ai rapporti umani, alle percezioni e questo è ciò che voi potete incarnare nella vita per affrontare con grazia l'opportunità, che vi è offerta dai tempi in cui vivete. Ritengo che ciò esprima un'incredibile continuità abbiamo lavorato insieme tutti quanti. Ora vi chiedo questo chi sono gli antichi? Se credete che abbiamo vissuto più di una vita sulla Terra, ci sono delle buone probabilità, che gli antichi, gli abitanti indigeni a cui ci riferiamo continuamente, siano proprio qui, in questa stanza o nelle nostre famiglie, nella nostra società contemporanea. È molto probabile, se credete che ciò sia possibile ed io lo verifico nei fatti sempre più che migliaia di anni fa noi abbiamo lasciato a noi stessi degli indizi, che sapevamo sarebbero stati importanti al giorno d'oggi. Potrebbe trattarsi di simboli sottili, di parole o di suoni, ma anche di indizi vistosi come l'entrare in un antico tempio e all'improvviso ricordarsi qual è lo scopo della vita. Il momento presente è fondamentale per l'umanità e questa è la ragione per cui sono così stimolato da ciò che sta accadendo. Voi siete la generazione, che getta un ponte fra tutto ciò che è stato e tutto ciò che deve ancora accadere. Voi fate da ponte ad un antico paradigma millenario basato sulla tecnologia esterna e state ricordandovi che qualcosa sta accadendo qui sulla Terra. Voi create un ponte lungo questo ciclo di 20 anni, che gli antichi hanno chiamato non tempo e così facendo date alla luce una nuova saggezza, che riunisce e trascende le tradizioni mistiche e forse anche le religioni e la scienza. Siete pionieri elevatrici e state facendo nascere tutto questo. La storia futura guarderà indietro alla nostra generazione e vedrà che in questo periodo sono state fatte le scelte necessarie da abbracciare con grazie alla totalità di ciò che significa essere umani per poi riprendere il cammino da quel punto in poi. Sono sicuro, che tutti provate un'emozione in questo momento, siete sicuramente in estasi. Ebbene se concepite le emozioni sotto forma di strutture ondulatorie, che fate vibrare nel vostro corpo fisico, qualunque sia la forma di quell'onda di estasi ora la state mantenendo stabile nel cristallo liquido del vostro organismo. Ogni vostra cellula, che contiene la doppia elica del DNA, è immersa in quell'onda. L'avete visto con i vostri occhi più alta è la vibrazione o la frequenza più onde esistono in ogni unità, più bassa è la vibrazione, meno onde ci sono. I ricercatori stanno cominciando a comprendere che è la qualità della vibrazione, è il modo in cui quella vibrazione riveste la forma ondulatoria del DNA a determinare l'attivazione o meno dei nostri codici lungo la doppia elica. Ripeto il concetto perché è complesso. Il mistero è sempre stato questo. Noi abbiamo una doppia elica, prima di tutto come fa il nostro organismo a sapere in quale punto di essa deve far crescere un aminoacido? Ecco una doppia elica. In un'elica noi osserviamo la presenza ad intervalli di forme particolari, che hanno ad esempio un aspetto come questo della lanina, che è un aminoacido, o della salina, che ha l'aspetto di una zampetta di cane, mentre la lanina ha l'aspetto di un lecca-lecca. Come fa il nostro corpo a sapere dove collocare questi due aminoacidi? O perfino qualcosa di più complesso come quest'acido aspartico? In primo luogo come fa l'organismo umano a sapere dove far crescere un elemento lungo l'elica ed in secondo luogo, una volta che l'elemento è posizionato, come fa l'organismo a sapere se lo deve attivare oppure no? A volte gli elementi sono presenti senza essere attivati e questo ha rappresentato un mistero per la scienza. Se è vero ciò che cominciamo a comprendere oggi riguardo alla relazione esistente fra vibrazione e pensiero sentimenti e emozioni e questi modelli di DNA, allora questo è proprio ciò che gli antichi ci hanno tramandato. Il modo in cui la forma ondulatoria delle emozioni riveste o tocca a questa doppia elica può innanzitutto rappresentare il fattore, che determina il punto di formazione degli elementi sull'elica. Perciò se in voi c'è un'onda di emozioni e se essa dà origine ad un elemento, quest'ultimo si formerà solo nel punto di intersezione cioè nel punto in cui l'onda non fisica dell'emozione va ad incontrare l'espressione fisica del DNA. Se l'elemento verrà poi attivato la possibilità di attivazione si verificherà in quell'intersezione. Si tratta di quel santo matrimonio, della santa unione di cui abbiamo parlato. Perché il fatto, che il magnetismo sta decrescendo ci dovrebbe riguardare? Ma perché le nostre stesse emozioni sono legate al magnetismo della Terra? Il rapporto fra sentimenti e emozioni magnetismo è stato ampiamente documentato. Forse c'è ancora un aspetto meno conosciuto, ed è questo pensate al magnetismo come ad una colla. Duemila anni fa avevamo molta colla per tenere insieme i nostri modelli di credenze, pensieri, sentimenti ed emozioni ma, col decrescere del magnetismo, che ora noi siamo in grado di misurare a livello digitale, la colla se ne va e, forse per la prima volta in duemila anni, oggi possiamo accedere alle nostre emozioni direttamente. Possiamo modificare il significato, che esse hanno per noi e creare un cambiamento. Poiché la colla sta sparendo, la Terra ci offre questa opportunità proprio nel momento in cui ci stiamo avvicinando al tempo, che gli antichi chiamarono il cambiamento epocale e il mutamento della coscienza umana. Se, come suggeriscono quei testi, siamo l'ultima generazione evidente prima del cambiamento, allora è proprio la nostra generazione, che sta incarnando lo scolamento dei vecchi modelli mentre ancora ci vive dentro. In pratica vi si chiede durante l'arco di una sola vita sia di ridefinire il significato della vostra esistenza fino ad oggi, sia di stabilire dei nuovi modelli. Com'è stimolante tutto questo? Che rara opportunità! Osservate il modo in cui lo state facendo. Vivete nella polarità, nella luce più luminosa e nell'oscurità più oscura e chiedete a voi stessi di trascendere questa polarità per innalzarvi rispetto a ciò che le situazioni della vita vi hanno dato. Lo state facendo proprio mentre siete ancora immersi nella polarità ed è così che acquistate potere. È facile uscire dalla polarità e dirsi questo è ciò che dovrei o non dovrei fare questo è il corso di azioni più saggio per me perché mi sono messo di nuovo in questo tipo il rapporto. Ma, se siete dentro a quello stesso sistema, che ha creato tutte le credenze, le gioie, il dolore e le ferite, che noi abbiamo mai conosciuto e se riuscite anche a ridefinirlo dal di dentro, allora realizzate una straordinaria opportunità, veramente una straordinaria opportunità. Ritengo che stiamo già dando forma a quest'occasione di crescita. Il cambiamento è già iniziato. Probabilmente il modo in cui scegliamo di rispondere alla vita determina digitalmente la maniera in cui il corpo umano si esprime attraverso il DNA. Questa è una tecnologia. Stiamo spendendo miliardi di dollari per scoprire come realizzare questo in laboratorio, all'esterno del corpo umano, ma non potrebbe invece trattarsi di qualcosa di tanto semplice quanto il provare sentimenti, o il respirare, o il permettere ad un'emozione di manifestarsi? Io credo che oggi stia accadendo proprio questo. Come vi fa sentire l'idea, che i pensieri e le emozioni possano far cambiare chimicamente il corpo umano? Lo strumento più potente e gratificante in assoluto a vostra disposizione, per rispondere alla vita, potrebbe essere proprio questo la capacità di modificare chimicamente il vostro organismo per scelta, semplicemente conoscendo le vostre emozioni e sapendo che cosa significano per voi? A questo punto le cose si fanno molto interessanti perché stabiliamo rapporti con gli altri proprio per creare emozioni, che ci permettono di conoscere noi stessi e per far questo diamo vita a dei rapporti molto intriganti. Gli esseni lo sapevano. L'hanno documentato bene e questo è l'argomento del seminario. Tra poco analizzeremo la prospettiva degli esseni, che presenta sette qualità di rapporto, che tutti noi prima o poi dobbiamo sperimentare per arrivare a conoscere noi stessi completamente. Una volta riconciliate in noi quelle sette qualità avremmo sgombrato il sentiero, che la scienza della compassione deve percorrere. Credo ci siano stati lasciati dei veri e propri codici logici verbali ed emotivi, non numeri o lettere come esistono nella matematica contemporanea. I codici sono parole, che ci permettono di diventare compassione, dopo aver conosciuto noi stessi. Emozioni, sentimento, pensiero, sono tutte onde, che si sovrappongono alla vibrazione del DNA nel cristallo liquido del corpo umano. Nel sancta sanctorum, nelle cellule del nostro corpo. Abbiamo la possibilità di determinare, prima di tutto i siti in cui costruire le antenne e in secondo luogo possiamo decidere se quelle antenne debbano essere attivate o meno il che ci consente di avere delle esperienze incredibilmente differenti. Abbiamo parlato del circuito sacro la terra sintonizza il cuore e il cuore sintonizza il cervello e il cervello sintonizza le cellule studiando questo modello, di per sé molto semplice, ma anche molto elegante nel descrivere ciò che da molto tempo gli antichi ci hanno tramandato, ci chiediamo se noi umani incarniamo questo circuito, perché non siamo sempre ben sintonizzati? Perché non siamo sempre in perfetta armonia con il nostro circuito fatto di cellule cervello cuore terra? Quale potrebbe essere il fattore capace di guastare, cambiare, modificare, quella frequenza? Ecco la risposta. Il volto di quest'uomo 3 mostra un'emozione, di che emozione si tratta secondo voi? Paura, tristezza? Quest'uomo ha paura. Forse teme per la sua vita, se vedete anche il resto dell'immagine. Paura. La paura è l'unico modello di interferenza capace di impedire la risonanza fra terra cuore cervello cellule? Cosa è la paura? La paura indossa moltissime maschere nella nostra cultura? Quasi tutti proviamo paura nella nostra vita. Paura dei rapporti amorosi, paura di non valere, paura di non riuscire a soddisfare impegni e responsabilità. Alcuni ricercatori hanno stimato che un altissima percentuale, fino al 98% delle paure presenti nelle nostre vite, in realtà non ci appartiene. Il 98% di quelle paure non sono vostre. Vi chiederete allora di chi sono? Queste antenne ci collegano alle griglie o campi elettromagnetici in cui sono situati i modelli di informazione. Tutte le paure, di tutti coloro che sono vissuti prima di questo tempo storico sono mantenuti al loro posto da quei campi magnetici. Gli esseri umani vengono messi al mondo in virtù di questo codice di partenza, che ricevono all'inizio della loro vita, vale a dire che veniamo sintonizzati, fin dall'inizio, su quelle stazioni. Mentre ci risvegliamo sulla terra percepiamo i modelli, che quelle stazioni ci hanno messo a disposizione come se facessero parte di noi e li portiamo con noi finché non riacquistiamo la memoria o finché essi non hanno più senso e ci scegliamo una nuova situazione. Abbiamo qui uno schema di questo tipo, che riguarda le persone principali, maschi e femmine, che si sono presi cura di noi ed ora vi chiedo di descrivermele nel modo in cui le percepivate da bambini, usando una sola parola o una breve frase. Allora, le caratteristiche delle persone principali, che si sono prese cura di voi nell'infanzia 4. Vorrei chiedervi di condividere con me le qualità negative e positive, che avete elencato. Ci servono entrambi per il nostro lavoro. Durante gli anni in cui ho lavorato a questi temi, ho incontrato raramente dei casi in cui le persone avessero difficoltà con i momenti positivi, con le gioie della vita. In passato era così, forse in futuro le cose cambieranno, chissà. Ma ora per questa ragione vi chiedo di prendere la lista delle caratteristiche negative siano esse maschili o femminili e di condividerne il contenuto come ha detto. Critico, rigidità è questa la parola, chi avrebbe usato da bambina? Va bene rigidità, non coinvolto, arrabbiato, egoista, possessivo, fanatico, irrazionale. Come si manifestava questa qualità? Con un tipo di comportamento incoerente? Credo si possa dire irrazionalmente pauroso, va bene, lo scriviamo così, immaturo, controllante, depresso, senza speranza, ubriaco, debole, prevenuto, imbroglione. Beh, interessante. Ho avuto la possibilità di svolgere questa attività con molte persone durante gli ultimi dieci anni. L'abbiamo proposto in paesi diversi, con gruppi diversi, di varie etnie, razze, culture e ambienti. Ora vi mostrerò una diapositiva, che risale a sei anni fa nella quale appaiono molte delle parole, che vedete scritte sulla nostra lavagna. Se non lo si sapesse, osservando le due liste, si potrebbe quasi dire che siamo venuti tutti dalla stessa famiglia. Non è interessante? Siamo tutti venuti dalla stessa famiglia. È incredibile come gruppi differenti di persone, scrivano le stesse parole. In gruppi più numerosi si finisce per fare molte crocette accanto alle parole, che hanno un'alta incidenza. Perché? Perché accade questo? Perché tutte queste caratteristiche negative si somigliano così tanto anche se sono state raccolte per anni fra culture, aree storico-geografiche, etnie, razze altamente diversificate fra loro. Che ne pensate? Siamo un tutt'uno su questa terra. Ci sono sempre delle eccezioni a tutto ciò che facciamo e noi qui stiamo cercando delle generalizzazioni, dei modelli di informazione. Vi rivolgo una domanda a proposito di modelli. Spesso e volentieri, qual è il modello implicito, che viene espresso dalla caratteristica del giudizio in un rapporto umano? È la paura. E se voi l'avete messo sulla lista significa che vi ha colpito perché ve ne ricordate ancora oggi. Quando giudichiamo qualcuno, che messaggio diamo in realtà? Abbiamo paura di quella persona. C'è paura. Gli altri potrebbero essere migliori di noi, potrebbero aver ragione. In qualche modo noi ci paragoniamo ad un punto di riferimento esterno, ad un altro individuo, e la nostra paura è che potremmo non essere all'altezza. Spesso quando notiamo che la rigidità è dominante in un rapporto, qual è il suo modello implicito? Paura di cambiare. È paura. Francamente, senza dati più specifici, ci potrebbero essere anche altre cause oltre a questa, ma spesso si tratta solo di paura. Quando un genitore sceglie di essere non coinvolto con un figlio, se il figlio se ne ricorda ancora dopo tanti anni, significa che ciò ha avuto un profondo impatto su di lui. Di solito c'è qualche cos'altro che agisce dietro a quella mancanza di coinvolgimento. Grazie. Grazie. Grazie.